L'Ugento inizia a muovere i primi passi verso la nuova stagione, quella del tanto atteso a Prodo in Serie D, il responsabile dell'area tecnica Massimiliano Vada che ha al lavoro per mettere a disposizione di Mister Oliva una rosa in grado di confermarsi anche in una categoria superiore, una rosa che ripartirà dalle vecchie certezze da molti di quei calciatori che sono stati i protagonisti della cavalcata conclusa con la netta vittoria sul Bisceglie nella finalissima di eccellenza. Primo tassello, il capitano David Ruiz, alla destra classe 1997 da 7 gol in 21 apparizioni complessive nello scorso campionato, la sua permanenza è stata già ufficializzata dalla società. Al suo fianco dovrebbero rimanere in terra salentina anche l'esperto difensore argentino Emmanuel Martinez, terzino destro classe 1989 e il collega di reparto Paco Iborra, spagnolo classe 1994. Solo una volta rese note queste e altre conferme si procederà con gli annunci dei primi colpi in entrata, almeno un calciatore per ruolo è stato già bloccato anche se non ancora ufficializzato. Capitolo ritiro, la squadra di Oliva dovrebbe ritrovarsi intorno al 23 o al 24 luglio in città, città dalla quale non si allontanerà per tutta la dirata del ritiro stesso. Si parte con la voglia di stupire e con i piedi ben saldi per terra, prima la salvezza poi tutto il resto, senza strafare da un punto di vista economico ma puntando sulle idee e sulla costruzione di un grande gruppo, lo stesso che ha reso possibile il sogno Serie D.